Siamo nel rifugio, nel nascondiglio, nel laboratorio musicale e artistico di un grande della canzone napoletana. Io non lo definisco un cantante perché sarebbe riduttivo. Lui è un costruttore parola per parola di poesie. Eugenio Bennato, buonasera Eugenio. Ciao. Allora Eugenio, tu parli sempre del sud, di quelli che non hanno voce o che hanno poca voce. Da cosa nasce? Non te lo so dire, da una vocazione o una diffidenza verso la cultura ufficiale, cominciare da quella televisiva, che è diventata insopportabile. Io, fin da ragazzo, noi ascoltavamo le cose di grande successo, il rock, Dylan, i Beatles, eccetera. Però seguivamo un filo diverso, alternativo, vorrei dire controcorrente. Però poi dopo, a pensarci dopo molti anni, questo è il filo della bellezza. Quando io andavo nelle campagne a sentire la musica dei cantori di Carpino, non lo facevo per una così vocazione intellettuale, ma perché quella musica è bellissima. Cioè la musica può fare più bella. Le radici storiche? Le radici, la musica che passa attraverso un consenso di popolo, perciò arriva fino a noi. E quindi era quello il filo. Molto spesso sei accostato ai briganti. Tu hai fatto anche un pezzo meraviglioso, Nincun Anco. E tu ti senti più cantante o più brigante? Sicuramente più brigante, perché poi non mi sento cantante. Io racconto le cose con la mia voce. Infatti io volevo dire narratore. Sì, sì, narratore, brigante, è un'inquietante figura della storia che è stata dimenticata. Questa figura e sono stati dimenticati quei nomi. Quando ho scritto la ballata su Nincor Anco, perché? Perché guardavo questa foto di Nincor Anco ucciso. Questa foto bellissima, che adesso la guardano in tanti. Prima stavo in un libro, un libro polveroso, e pensavo, quasi con un sorriso accennato nell'estremo atteggiamento, fotografato dai piemontesi, questo disgraziato brigante che quanti ne aveva fatti fuori dai piemontesi da solo, col suo cavallo bianco. E quindi una taglia su di lui, la legge pica, eccetera. E ho pensato, ma questo personaggio è come se stessi chiedendo qualcosa a me. Ma l'ho pensato per anni. Fino a che ho detto, no, io devo scrivere una ballata per cui... E Nincor Anco deve morire perché si campa e potesse parlare e si parlasse e potesse dire qualcosa di meridionale. Ho pensato, il personaggio che c'è a quel volto, ci ricorda tanti uomini contro, a cominciare da Cia Guevara, ci racconta una storia nuova, diversa, alternativa, inquietante. Pensavo, e poi c'è un nome che è straordinario. Cioè lui, vedete, ci sono altri briganti, non so, Caruso, Carmine Crocco, però il nome di Nincor Anco è un nome mitico. Lui era destinato a diventare un mito e lo sta diventando oggi, forse anche grazie a questa cosa che ho scritto. Io volevo chiederti quante volte è stato ucciso Nincor Anco, ma non lo farò. Non lo farò perché io credo che la risposta sia abbastanza eloquente. Lo uccidono probabilmente ogni giorno, ogni qualvolta ne parlano. Un cadavere è vituperato. Quanto è vituperata la musica napoletana tradizionale, quella vera? No, direi che quando io ho iniziato, e di questo ne sono fiero, poteva essere un discorso di nicchia, di rite. Oggi non lo è più. Quindi diciamo che Nincor Anco quante volte muore, vorrei dirti quante volte campa, quante volte rinasce. Ogni volta che viene cantata questa canzone, ogni volta che viene messo in mezzo questo nome. Questa musica non è più musica vituperata o di ghetto, ma è musica di popolo. Quindi io sono molto ottimista. Concludiamo con questa battuta finale. Quindi possiamo sperare, c'è una voglia di rivalsa del sud, del meridione. C'è la speranza di una rinascita. Guarda, io facevo ascoltare poco fa l'ultima cosa che ho scritto. Viva l'arte che si riprende, tutta la musica del suo mare, e se ne va controcorrente, a sfondi ancora più lontane. Viva il sud che continua a navigare, viva la sua melodia che nessuno può fermare. Grazie a tutti.